Ciao, questo è un video un po' diverso dal solito, temo che sarà un po' lungo. Di solito su questo canale non mi trovate a fare delle discussioni sugli argomenti del giorno, ma siccome su questa cosa ho parlato più volte con vari colleghi e noto soprattutto che ci siano dei problemi di comprensione di cosa si sta parlando prima di tutto, diciamo che penso che possa far comunque parte del senso di questo canale e quella di spiegare un pochettino come funzionano alcune delle tecniche digitali che esistono in modo tale che almeno se ne possa fare un discorso informato perlomeno da un minimo punto di vista tecnico. Non sono molto contento di fare video del genere perché di solito quando si parla di alcune tecniche è inevitabile ovviamente discutere anche della propria opinione su queste tecniche e in questo caso addirittura è in discussione proprio il fatto che questa sia una tecnica o uno strumento. Quindi perdonatemi se ogni tanto utilizzo la parola strumento, quando per molti questo non è uno strumento, è semplicemente diciamo per motivi di chiarezza. E il fatto che ci sia proprio questa difficoltà anche solo a nominare l'argomento la dice lunga su come si stia polarizzando la situazione. Non c'è niente di male a polarizzarsi, l'importante secondo me è comunque almeno assicurarsi di star parlando della stessa cosa perché purtroppo noto che in molte discussioni sembra essere sconosciuto l'argomento tecnico. A me interessa spiegare un attimo cosa intendiamo quando parliamo di immagini generate dall'intelligenza artificiale, immagini generate dal machine learning, text to image. è finito per diventare una specie di enorme calderone nel quale si mette delle cose diverse. Non sono felicissimo di fare questo video anche perché c'è chiaramente un'operazione di speculazione in corso di razzia vera e propria che cercherò di spiegare. E ovviamente queste cose funzionano quando sono fatte velocemente come tutte le razzie. Quindi far parte della discussione sull'argomento è una delle cose che aiuta questa razzia. Questo è il motivo per il quale in genere preferivo non parlarne. Tuttavia appunto diciamo che mi metto nel ruolo anch'io di far parte del hype che si sta creando tutto attorno a queste cose che mi ricorda in maniera del tutto parallela quello sugli NFT di un paio di anni fa perché davvero in questi casi è la classica vecchia regola del non importa come se ne parla basta che se ne parli. La mia opinione ovviamente esiste, non è possibile fare un discorso che prescinda da un'opinione è possibile però cercare di fare un discorso motivato in maniera tale che anche se la mia opinione è diversa da quella altrui almeno possa dare alle altre persone degli strumenti per capire come mai la mia opinione può essere formata in un certo modo. Questa pagina che state vedendo è la pagina di ArtStation, una community di artisti, nella quale ci sono molte immagini come queste che sono appunto un simbolo di divieto sopra alle parole AI sono una forma di attivismo di diversi artisti nei confronti dell'argomento e sembra di sicuro che abbia funzionato in diversi casi perché a parte che nelle ultime immagini non c'è più probabilmente hanno messo dei filtri per tagliare fuori questo comunque quando accedete ad ArtStation adesso c'è un piccolo pop-up che vi porta a questa pagina che hanno preparato in cui vi spiegano la loro opinione e sinceramente questa ancora non l'ho letta perché è una novità di stamattina. Come funziona la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale? Prima di tutto devo dire che chiamiamo intelligenza artificiale con una parola eccessivamente ampia dal mio punto di vista l'intelligenza artificiale è molto di più di quello che stiamo vedendo adesso che è solo un piccolo frammento. Molte delle tecniche che vedremo hanno ognuna il loro nome tecnico appunto e intelligenza artificiale è una specie di parola cappello che comprende veramente di tutto è poco utile a capire però è il modo in cui le chiamiamo al giorno d'oggi quindi io non ne faccio una questione terminologica chiamiamola AI perché è come viene chiamata in questo momento. Il meccanismo in un certo senso è quello di quella storiella nella quale si dice se prendo un miliardo di scimmie e le chiudo in una stanza per un miliardo di anni ognuna con una macchina da scrivere c'è una certa probabilità che prima o poi qualcuna se ne esca fuori con la divina commedia o con un romanzo. Poi ovviamente c'è anche la barzelletta che dice l'unica cosa sicura è che ci sarà una puzza terribile in quella stanza. Se proprio non avete idea di cosa sia un'immagine digitale io ho fatto anche un video tempo fa che si chiama colore digitale le basi non sbagliare con Blender, Synthica, iPad e schermi White Gamut nella prima parte di questo video io cerco di spiegarvi in che senso le immagini digitali sono dei numeri diciamo e quindi se proprio siete a zero sull'argomento provate anche eventualmente a partire da questo video dove cerco di spiegare cos'è un'immagine digitale nella sua base base. Una delle idee è quella di utilizzare due scimmie divise che non si vedono e non si parlano. La prima appunto ha a disposizione una macchina da scrivere o diciamo un computer con la tastiera e ci batte a macchina sopra ovviamente digitando completamente a caso. Quell'altra scimmia ha a disposizione una serie di romanzi scritti da persone, da esseri umani e riceve i romanzi della scimmia sua amica che glieli mostra e lei ha la possibilità di alzare una paletta e dare un voto a quanto questo documento creato dalla scimmia somiglia o meno a quelli a sua disposizione. Ai primi tentativi di romanzo veramente orrendo gli darà zero, poi piano piano gli darà uno e l'unica cosa che interessa a questa non è di scrivere un buon romanzo ma di ottenere un buon voto dalla sua compagna. Questo è un primo funzionamento di rete generativa avversaria come si suol dire quindi una rete di due diciamo computer uno genera e l'altro valuta. Scopo del computer che genera è non capire cosa sta facendo perché ovviamente non lo sa non ha la più palida idea di cosa sia un'immagine di cosa sia un testo lui genera semplicemente casualmente tutta una serie di informazioni. Invece chi ha una vaga idea ma in realtà neanche questa ha una vera idea ha semplicemente un archivio di cose che gli sono state date contro i quali può valutare diciamo con la sua paletta con il voto i risultati del primo computer. Questo è un meccanismo molto semplice di intelligenza artificiale. Qual è il vantaggio di un meccanismo del genere? Che non c'è bisogno di inventarsi una procedura per costruire un buon romanzo una buona immagine. non dobbiamo creare una vera sequenza di cose che ci portano a una buona immagine possiamo procedere completamente a caso e relazionarci in base ai feedback un po' come fa diciamo un bambino piccolo che nel momento in cui genera dei suoni li genera a caso e poi in base al feedback che riceve dai genitori capisce se quel suono ha un risultato positivo negativo e quindi la sua attenzione l'attenzione della scimmia numero uno è solo ed esclusivamente al feedback che arriva e cerca di massimizzarlo il più possibile e ovviamente la scimmia numero due non ha nessuna possibilità di dare dei consigli alla scimmia numero uno qua c'è un muro permette solo il passaggio del voto oppure del prodotto esattamente come i genitori non hanno modo di insegnare al bambino a parlare in quel momento possono solo aspettare di ricevere un prodotto e attraverso il sorriso attraverso mille cose cercare di far capire che il risultato è nella direzione giusta questo permette piano piano di arrivare a dei risultati il procedimento seguito dalla prima scimmia sarà di decidere che non so il colore di un pixel e in un primo caso di farlo di un colore e in un secondo caso di farne un altro dopodiché potrà decidere il colore di un altro pixel e potrà farlo del colore del primo oppure del colore del secondo e così via ogni volta potrà prendere una nuova decisione e quindi avere un risultato che dipende dai passi precedenti capite che procedendo in questo modo i passi che sono possibili soprattutto su un'immagine che anche un'immagine molto piccola è fatta già da centinaia di migliaia di pixel è molto lento come processo però se a un certo punto casualmente appunto mettendo dei pixel a caso a un certo punto la prima scimmia riesce a generare un'immagine piacevole diciamo giusta il feedback è tale e la prima scimmia si ricorderà la strada che ha percorso per arrivare a quel risultato e a quel punto potrà provare la seconda volta che ci prova a saltare tutta una serie di passi magari anche a saltarli tutti e provare a cambiare solo qualcosa alla fine più torna indietro più i risultati saranno diversi però è anche più probabile che l'immagine non piaccia comunque diciamo che pian piano riuscirà a capire che esiste una strada privilegiata che porta più facilmente al risultato finale un motore scacchistico più o meno funziona in questo senso non sa come sta giocando però diciamo che può anche escludere tutta una serie di giocate iniziali per guidare il processo possiamo aggiungere un elemento potremo fornire alla scimmia valutatrice un testo contro il quale deve valutare la qualità del risultato quindi non un libro a caso ma proprio un certo libro cioè devi dire alla prima scimmia quanto si è avvicinata a un specifico risultato ed è in questo modo quindi che possiamo in questa procedura ottenere immagini diverse alla fine perché forniamo alla seconda scimmia diverse immagini contro le quali dare il voto la prima scimmia quindi imparerà delle strade diverse per arrivare alle diverse immagini con questo meccanismo funziona questa vecchia mi tocca dire vecchia applicazione di Nvidia che genera delle immagini sulla base di disegni molto semplici che noi creiamo a sinistra qui forniamo alcuni elementi dipingendo tra l'altro ancora dipingendo come si faceva una volta non scrivendo dei testi quindi questa prima parte che fornisco io è l'input dell'immagine e quello che viene generato dall'altra parte il risultato a destra cerca di accontentare le mie richieste a sinistra perché in pratica gli viene chiesto vedete qui io metto dell'erba e quindi cerca di fare in modo che in questi pixel il valore di erba diciamo sia soddisfatto in questo caso quindi il parametro non è testuale ma è di tipo visivo cioè in quella zona vorrei dell'erba posso chiedergli varie varie azioni appunto e diversi stili con i quali ottenere e posso quindi diciamo costruire delle cose che desidero vedere disegnandole le mie richieste cercheranno di essere accontentate a destra sulla base delle informazioni che gli sto fornendo questa applicazione che inizialmente si chiamava Gaugan appunto che sta proprio per gun quelle che vi ho detto prima reti generative avversarie solo che l'hanno chiamata Gaugan per richiamare un pochettino il pittore Gaugan come vedete qui si sbaglia per esempio mi mette dell'acqua lì quasi sempre in alcune delle varianti no però diciamo che posso pilotare abbastanza il risultato quello che ottengo è qualcosa che pesca da tutta una serie di fotografie di alberi di cielo di mare e cerca di accontentarmi diciamo e quindi di ottenere dei buoni voti nella valutazione ogni singola zona dell'immagine riceverà il suo voto quanto più si avvicina a quello che avevo chiesto quindi appunto quanto più somiglia a una in questo caso sto mettendo collina montagna ovviamente più cerco di essere specifico peggiori i risultati ottengo vedete qui i risultati sono molto scarsi se ricomincio da capo e cerco di essere molto vago prendo il mare trascino una riga riempio adesso vedete fornendo pochissime informazioni il risultato è chiaramente migliore con delle regole abbastanza vaghe i risultati sono sempre migliori che non cercando di essere troppo specifici d'altra parte appunto è un metodo col quale cercare di generare delle idee fondamentalmente questo gira esclusivamente all'interno del mio computer quindi non utilizza su internet un bel niente la seconda scimmia diciamo ha ricevuto le sue immagini già le ha già in un archivio non può essere migliorata in nessun modo se non con eventualmente appunto un aggiornamento del software i dati sono già contenuti all'interno dell'applicazione è un meccanismo molto diverso dalla programmazione classica nella quale io posso comunque generare diciamo delle forme attraverso dei programmi automatici però vedete questo è un programma automatico per blender che fa quest'operazione qui a fianco di creare questi cubi in questo modo ha il vantaggio eventualmente di essendo programmabile di poter cambiare dei parametri e ottenere dei risultati diversi posso diciamo avere un meccanismo automatico per ottenere delle cose però io devo sapere come fare questo è un programma è scritto e tra l'altro è anche commentato diciamo ogni punto è quello che io farei a mano questo è il metodo di programmazione classico ottenere dei risultati senza che noi conosciamo per forza la procedura con la quale arrivare a costruire questa montagna da nessuna parte in questo programma c'è scritto come disegnare una montagna come disegnare la neve il mare è una specie di scatola nera che produce montagne mare ci prova la seconda scatola nera gli dice quanto è stato bravo e cerca semplicemente di massimizzare il suo voto questo meccanismo è utilissimo ed è un'innovazione molto grossa per esempio in ambito industriale che ne so immagino una catena di pezzi dove bisogna verificare le saldature si può mettere una telecamera che osserva e fa una foto a ogni pezzo e mentre prima serviva un essere umano che riconoscesse la buona saldatura dalla cattiva saldatura oppure un essere umano che fosse abbastanza bravo da poter scrivere una procedura con la quale leggendo i pixel il colore di una foto si possa in quello riconoscere una buona saldatura da una cattiva saldatura invece questo metodo ci permette di creare un programma che dalle foto delle saldature risponde sì o no se la saldatura è buona sulla base della sua esperienza l'esperienza ovviamente viene costruita con degli esseri umani che gli dicono questa è buona questa non è buona quindi viene fornito un set di buone saldature un set di cattive saldature e lo si addestra fino a quando non la indovina quindi c'è anche e questo è importante per dopo una parte di verifica dei risultati quindi diciamo c'è un terzo elemento nella catena che siamo noi esseri umani di solito che in questo caso siamo noi ad alzare una paletta e dare un voto a questa scimmia per dirgli sì ha indovinato non ha indovinato in questo modo lei può migliorare il suo meccanismo di voto nelle volte successive quindi questa parte qui non fa parte del training della IA nel senso che il primo training sarebbe quello di fornirgli gli elementi da valutare però ci siamo noi come esseri umani dopo che diamo un voto e aiutiamo a migliorare il suo algoritmo con il quale fa il match tra la produzione e la base di dati è un bel vantaggio appunto perché non dobbiamo conoscere il modo con la quale creare certe cose dobbiamo solo sapere come valutarle in maniera non troppo diversa da come uno anche se non è esperto è capace di dire questo è un buon piatto di pasta asciutta e questo non è un buon piatto di pasta asciutta non è necessario saper fare la pasta asciutta per poter dire se è buona oppure no però se noi abbiamo un gusto pessimo e diciamo che la pasta asciutta è buona anche quando non lo è ci dovrebbe essere una persona che ce lo fa notare quindi ci sono tre elementi in questa situazione nella quale uno quello finale è sempre un essere umano che possibilmente migliora le caratteristiche di chi dà il voto questo metodo pur essendo molto comodo genera dei problemi perché mentre qui abbiamo per forza un essere umano che ha scritto questa cosa e sa come fare le cose ed è diciamo sua responsabilità che questa cosa funzioni o meno quindi anche se non l'ha fatto a mano diciamo questi cubi non li ha piazzati a mano lo ha fatto fare un programma comunque avendo scritto cosa fare è da un punto di vista etico del tutto uguale all'averlo fatto davvero perché ho semplicemente scritto le istruzioni per farlo in una situazione di questo tipo invece io non posso dire ai programmatori se hanno fatto o meno un buon lavoro perché loro non hanno scritto da nessuna parte come si costruisce l'alberello che appare qui nell'immagine non sanno davvero da dove viene semplicemente l'alberello viene generato viene votato se è abbastanza buono passa altrimenti non passa non c'è una procedura che possa determinare facilmente qual è l'essere umano che è responsabile del risultato perché il risultato dipende dal set che è stato fornito all'intelligenza artificiale dalle immagini di training e anche da quelle persone che hanno eventualmente valutato alla fine la qualità del risultato finale cioè io qui adesso dovrei in teoria segnalare alla macchina per dire no guarda questa immagine è buona invece che ne so questa non è buona perché sembra che questa qui voli e questi alberi sono troppo grossi rispetto alla distanza se potessi fornire queste informazioni probabilmente la volta dopo il voto sarebbe più basso su un'immagine del genere non passerebbe più e cercherebbe sempre casualmente di generare qualcosa di buono quindi questa parte finale in questo caso manca o comunque è presente come nel fatto che io questa immagine non la scelgo qui è tutto sul mio computer nessuno lo saprà mai che magari questa qui non l'ho scelta e invece questa mi è stata utile l'aver messo i sistemi di generazione AI su internet permette di avere questa parte del lavoro fatta dagli utenti infatti fateci caso a come funziona Midjourney fornisce quattro immagini e noi ne scegliamo una in quel momento stiamo facendo un lavoro che è il lavoro appunto del terzo essere umano che dà un voto alla macchina che produce i voti dicendogli guarda però degli esseri umani tra le quattro che tu hai detto belle in realtà queste tre o queste due non le scelgono mai quindi occhio che potremmo migliorarti dicendoti che anche tu non dovresti lasciar passare queste immagini e quindi quello che fanno gli utenti utilizzando questo sistema è effettivamente lavorare per loro fornendogli questa informazione e questo lavoro che è molto intenso e in altre situazioni come quella della fabbrica che ho fatto ovviamente richiedono del personale pagato e che se ne intende che fa proprio questo mestiere di selezione c'è qualcuno in questa situazione che sta copiando qualcosa è effettivamente difficile sostenerlo perché per quanto riguarda la prima scimmia lei è chiusa in una stanza e non vede assolutamente niente produce letteralmente a caso non ha idea neanche di cosa sta facendo diciamo non sa se sta facendo montagne eccetera perché al di là del fatto che una macchina non ha idea macina semplicemente dei numeri però in ogni caso lei non le ha mai viste queste cose non le ha viste perché è questa eventualmente che ha a disposizione i libri le foto il paesaggio da guardare però questa non sta facendo assolutamente niente sta solo guardando e dando dei voti quindi non sta producendo le immagini chi produce non ha idea di cosa sta facendo è questa che in realtà possiede le immagini quindi alla quale potremmo dire ma chi ti ha dato il permesso di guardarle in realtà però non le sta producendo certo è chiaro che a noi viene venduto come un pacco completo e tra l'altro noi siamo questi qui che fanno questo lavoro qua via e quindi da questo punto di vista questo pacco completo si può ritenere responsabile di cosa sta producendo però effettivamente i risultati non sono un patchwork del materiale di partenza in nessun modo è proprio generato casualmente ora questo sistema della rete generativa avversaria va bene appunto per creare il gioco degli scacchi nel caso della generazione immagini qual è il difetto che tende ad arrivare quasi sempre allo stesso risultato e questo è il motivo per il quale qui abbiamo a disposizione diversi stili diciamo che sono diversi punti di partenza ma fondamentalmente il fatto è che questo albero sarà sempre uguale ecco nel momento in cui necro 2 saranno ovviamente leggermente diversi però è chiaro che se abbiamo imparato che quella è la strada giusta che ci porta a destinazione la prenderemo sempre e quindi una delle caratteristiche di questo modo di generare le immagini è che ha bisogno di diciamo essere variegato in altro modo ma non è in grado di produrre qualcosa di troppo diverso dalla volta prima a meno che appunto non forniamo grazie a questo piccolo sistema che qui hanno interpretato in questo modo un diverso pacco diciamo di reference alle quali guardare quando si dà il voto tendenzialmente una volta che ha trovato la sua strada la percorrerà sempre e sempre lo stesso modo questa appunto è tecnologia vecchia vecchia di un paio d'anni diciamo però per quanto sia strano dirlo adesso è stata superata da un altro metodo superata o meglio affiancata perché è uno degli argomenti del discorso come funzionano questi sistemi invece di generazione immagini attraverso la fornitura di testo in questo caso io devo fornire un testo in inglese beach at sunset per esempio premo un tasto e otterrò dei risultati allora questa in questo momento sta funzionando in locale cosa significa in locale è su un mio computer non è su internet a parte che abbiamo questi problemi etici dei quali appunto discuteremo però usarle su internet significa anche fornire del lavoro alle aziende che ci stanno dietro che grazie a quello che noi facciamo in qualche maniera ci stanno utilizzando esattamente come quando sui Kafka vi chiedono di identificare le scale di identificare i semafori stiamo lavorando per il training delle intelligenze artificiali delle automobili che si guidano da sole siccome non mi piace molto l'idea di partecipare a questa cosa questa qui è una generazione immagini che sta girando in maniera del tutto uguale diciamo alla più famosa mid journey ma questo è stable diffusion ma soprattutto sta girando in locale non è su un server di qualcuno è su un mio computer qui in studio come vedete ho scritto beach at sunset e mi ha essendo molto libero mi ha fornito tutta una serie di immagini gliene ho chieste nove potevo chiederne di più insomma o di meno qui è numero di fai due immagini alla volta per due volte beach at sunset genero di nuovo otterrò ogni volta delle immagini diverse questo è effettivamente quello del quale stiamo parlando in questi giorni ed ecco qua appunto quattro immagini diverse notate che se cambio la proporzione delle immagini creo una molto in piedi potrei ottenere dei risultati molto diversi perché anche la proporzione delle immagini è importante diciamo nell'andare a scegliere le immagini di partenza in pratica potete vedere qui che anche cambiando la proporzione delle immagini cambia molto quello che decide di fare perché diciamo che se le immagini verticali di spiaggia contengono di più certe informazioni come per esempio questa cosa finiscono per essere più rappresentate in questi risultati questa è generazione automatica in cui posso generare varie possibilità semplicemente aggiungendo delle parole e qui non ho particolare possibilità di intervenire sul risultato più comincio ad essere preciso più le immagini un po' come prima cominceranno ad essere strane quindi vedete questi gabbiani non lo sono per niente degli orri di pteranodonti qualcuna di queste immagini è decente ma semplicemente ha un primo colpo d'occhio abbiamo imparato che il meccanismo è abbastanza chiaro adesso l'immagine è generata con un metodo semi casuale vediamo con calma come sono fatte queste posso comunque decidere di applicare criteri diversi banche dati diverse e quindi a partire dalla stessa domanda ottenere risultati molto diversi per stile sulla base di alcune caratteristiche della base di dati di partenza per esempio vedete in questi giorni in giro molte immagini fatte tipo paper cut disegni fatti con la carta lì semplicemente si tratta di una base dati di partenza fatta soprattutto di immagini di quel tipo quindi è possibile selezionando certi tipi di immagini di partenza ottenere certi risultati poi notate che queste sono tutte fotografie perché evidentemente nel suo training ha visto probabilmente molte più foto che non disegni quindi vedete queste sono tutte foto però se io aggiungo qualcosa painted by van gogh adesso utilizzo morto appositamente ecco che all'improvviso sto dando un'indicazione molto precisa al meccanismo che c'è sotto e vedete ha introdotto questo elemento van goghesco che diciamo è riconoscibile cioè contiene la van goghisità ovviamente van gogh non ha mai disegnato niente del genere e anzi io potrei chiedergli delle cose che non potevano esistere al tempo quindi uno space shuttle disegnato da van gogh evidentemente nella base di dati di partenza ci sono molte immagini questo sistema di generazione è molto più potente del precedente perché lo posso portare in direzioni imprevedibili cioè queste informazioni non ci sono nei set iniziali di partenza non è assolutamente mai accaduto che abbia disegnato uno space shuttle van gogh però in qualche modo il meccanismo è riuscito ad accontentare entrambe le richieste lo space shuttle e van gogh posso riconoscere alcuni elementi di partenza questo sole che non gliel'ho chiesto e queste stelle sono chiaramente prese da un quadro di van gogh quasi così come sono in un certo senso e questo probabilmente è preso basta vedere anche per il fatto che è in piedi da un'immagine del lancio dello space shuttle però la parte che le mette insieme non esiste per esempio il bordo nero dello space shuttle non lo trovo né nei quadri di van gogh né nelle immagini dello space shuttle questa è davvero un'invenzione che ha deciso di fare la scatola nera la quale mi sto affidando sulla base delle informazioni a sua disposizione ma non è arrivata in alcun modo da nessuna immagine esistente in qualche modo ha capito che mettendoci un bordo nero poteva avere dei voti migliori in questo caso ho aggiunto gustave doré e il risultato tra l'altro è peggiore del precedente probabilmente a disposizione ha anche meno immagini di gustave doré è abbastanza probabile è cambiato anche il modo di rappresentare lo space shuttle qua adesso è molto più fotografico diciamo perché il modo di fare il chiaroscuro di doré tentava un approccio molto più realistico rispetto appunto a van gogson è sparita la linea nera non c'è se sono vaghissimo nella mia domanda space shuttle e basta vediamo cosa produce ha prodotto delle immagini molto strane non sapeva in che direzione andare se davvero facesse dei collage da google immagini i risultati qui dovrebbero somigliare molto di più alla stessa ricerca space shuttle fatta diciamo su google immagini in alcuni casi come questo può anche essere però chiaramente non tutti i risultati sono di questo tipo e sono anche molto strani in questo caso posso anche fare delle richieste che proprio non possono esistere in questo caso per esempio chiedo un orso a cavallo dello space shuttle ottengo dei risultati un po' particolari per qualche motivo non sempre l'orso in questo caso è presente ecco qua qui c'è un orso anche nella prima immagine c'era in diverse di queste situazioni i risultati sono impresentabili posso provare con degli altri metodi di generazione diciamo degli altri algoritmi dovrei dire anche se non lo sono esattamente perché abbiamo visto che non c'è un vero algoritmo dietro alla generazione delle immagini questo ha dei risultati ancora più pazzoidi e impresentabili notate che ci sono delle cose che somigliano a delle scritte questo è una cosa che in molti casi è stata ritenuta appunto ecco sono presenti le firme degli autori è chiaro che sta facendo un collage allora attenzione perché non è esattamente così anche quello fa parte del tentativo di accontentarci ovviamente non ha idea di cosa sia una firma di dove sia una firma non ha nessuna intenzione di posizionare una firma in quel posto semplicemente le immagini dello Space Shuttle tendenzialmente hanno una grossa scritta in quel posto e quella scritta ha certi colori certe forme e quindi è chiaro che passano con un voto migliore diciamo quelle immagini che casualmente in quei pixel cominciano a presentare delle cose che somigliano alla vera scritta che c'è nelle immagini di training di partenza e questo può essere più o meno presente a seconda del tipo di algoritmo che si decide di utilizzare queste immagini sono del tutto inutilizzabili per quello che cerco di fargli disegnare non c'è modo di pilotarlo non è così facile di sicuro però sono dei risultati molto strampalati aggiungendo queste parole Children Illustration Book l'ho mandato in una direzione molto più sensata nella quale i risultati cominciano ad avere un pochino di più senso perché non poteva ottenere dei grandi risultati dalle foto con un orso che guida lo Space Shuttle invece aggiungendo le parole illustrazione per bambini lo mando in una direzione nella quale è più facile che trovi dei risultati che possano centrare con quello che sto chiedendo che era appunto particolarmente strano in realtà appunto ci sono molti parametri è possibile poi partire da alcuni di questi esempi per andare a fare delle modifiche un po' come nel programma precedente posso selezionare certe parti delle immagini e dirgli di andare a sostituirle con qualcos'altro ho scritto Space Destroyer Children Illustration Book dopo aver dipinto questa maschera in questa zona e adesso ho ottenuto variazioni dell'immagine ce n'è appunto nove come gli ho chiesto in cui quella zona è stata sostituita con quello che gli ho chiesto in realtà non gli somiglia per niente provo con Death Star e provo a dargli più posto nella maschera in questa zona ovviamente guarda anche il resto dell'immagine quindi vedete che ci ha messo l'azzurro e ha cercato comunque di farla rientrare nel contesto del resto dell'immagine ecco i risultati questo un pochino di senso in alcuni casi ecco questa è proprio apparsa chiaramente qualcosa che somiglia alla morte nera in alcuni casi invece ha ottenuto dei risultati diversi il meccanismo può anche essere fatto in questo senso gli ho chiesto un cappello a cilindro ovviamente ha fatto dei mezzi disastri però volevo farvi notare che comunque è andato diciamo a ridisegnare in parte la zona delle orecchie come vedete è decisamente difficile da pilotare il lavoro è fare tutta una serie di prove riprove variare alcuni dei parametri cambiare alcune di queste impostazioni diciamo che col tempo si può prendere più umano e ottenere dei risultati che siano decisamente più interessanti di questo qui vi ricorda niente questa funzione a me ricorda molto la funzione di correzione che era presente già da diversi anni in alcune delle versioni di photoshop questo strumento diciamo con il quale si poteva selezionare una parte dell'immagine e farsela sostituire diciamo con dei pixel che avessero senso in questo caso ha fatto un disastro perché la parte è grande però invece se si tratta di rimuovere piccole cose funziona li sostituisce diciamo con dei pixel che sono sensati rispetto a quello che ci sta attorno questo era già presente in photoshop chiunque l'abbia mai utilizzato poteva immaginare prima o poi che saremmo arrivati a questo cioè sostituzione molto più sensata di questi pixel rispetto a questa vecchissima versione di photoshop che sto usando qui come funziona questo metodo allora uno dei generatori automatici di immagini si chiama stable diffusion c'è open diffusion notate questa parola diffusion allora l'idea che hanno avuto è questa sapete che c'è il filtro rumore c'è anche in photoshop posso aggiungere del rumore a un'immagine di solito non è una cosa desiderabile però diciamo che se io aggiungo una piccola quantità di rumore l'immagine è ancora riconoscibile più rumore aggiungo più l'immagine è difficile da riconoscere l'idea è stata questa posso addestrare una rete come quella di prima a rimuovere del rumore da un'immagine? sì istruendola a capire qual è il rumore in un'immagine posso aiutarla a toglierlo e soprattutto isolare il rumore in questione se io riesco ad addestrare una rete da un'immagine a estrarre il rumore posso avere sì l'immagine originale ma posso anche avere diciamo il suo rumore da solo quella parte che se la tolgo riottengo l'immagine originale probabilmente questa rete non mi darà la vera immagine originale probabilmente se questa era l'immagine originale togliendogli il rumore ottengo qualcosa del genere un po' più sporco non è esattamente la stessa cosa è qualcosa che gli va vicino qualcosa di simile però il risultato è che avrò ottenuto il rumore e se l'immagine fosse davvero rumorosissima al punto che è costituita quasi solo da rumore quando lo tolgo del tutto otterrò qualcosa che non sarà neanche così tanto leggibile sto simulando ma potrà essere magari qualcosa del genere che veramente è solo un'ombra rispetto al lavoro originale è più facile togliere poco rumore invece di tanto posso creare diversi step di rumore mentre sarà un lavoro particolarmente difficile riuscire a tornare dall'immagine super rumorosa fino alla prima è molto più facile tornare indietro di uno o due passi togliere un pochino di rumore e ottenere un'immagine un po' meno rumorosa e a ogni passo potrò tornando indietro ottenere la quantità di rumore che separa i vari passi quindi se sono tornato indietro di un passo avrò un certo rumore se torno indietro di due passi avrò un'altra immagine diciamo fatta solo di rumore che è la differenza tra queste due immagini e quindi so che se per esempio sono passato da questo passo a questo passo quindi al secondo ottenendo una certa quantità di rumore so anche che posso fare il contrario che riaggiungendo il rumore a questo posso tornare alla stessa immagine di prima quella rumorosa quindi io posso costruire diciamo un meccanismo che mi fa tutti questi passi fondamentalmente o alcuni di questi avanti e indietro e mi salva in un archivio tutti i rumori relativi quindi io so sempre che ho a disposizione questo rumore che serve per andare avanti e indietro tra due di questi passi tra il passo 1 e il passo 7 tra il passo 5 e il passo 12 saprò anche che quelli che separano più passi saranno meno affidabili mi tornano a portare indietro a un'immagine molto scarsa e invece quelli più vicini sono più affidabili invece di fare fin da subito questo passaggio molto difficile da qui a qui con questo sistema casuale che abbiamo visto prima delle scimmiette ci metterei una vita ad andare da qui a qui però posso partire da delle immagini che ho aggiungere via via del rumore e salvarmi in un archivio tutti questi possibili rumori per queste immagini che mi aiutano ad andare avanti e indietro tra le varie risoluzioni proprio perché sempre in maniera casuale è più facile fare un piccolo passo che non un grande passo e quindi io partendo da una serie di immagini mi metto da parte tutti questi passaggi in un certo senso se poi quando ho preparato tutto questo mega archivio immagini per ognuna di queste immagini avevo sotto delle parole chiave che erano associate a questa particolare immagine posso immaginare di tornare indietro da una qualsiasi immagine molto rumorosa diciamo per passi fino a tornare indietro a questa accoppiata tra immagine e testo immaginate invece di farlo per una di mettere in questo archivio di tutti i possibili rumori una grandissima quantità nell'ordine dei miliardi di coppie immagini testo per le quali ho salvato tutti questi rumori intermedi qui quindi per poter avere un'immagine generata da zero l'idea a questo punto è stata ma perché non diamo in pasto a questo sistema un'immagine fatta solo di rumore o al limite proprio del minimo indispensabile di un niente sopra questo rumore ma soprattutto rumore e provarla a fare tornare indietro utilizzando quelle parole che avevamo salvato quindi diciamo di andare a dirgli prova a tornare indietro nel togliere il rumore a questa immagine andando verso quelle parole che avevi imparato e che sono associate ad un'immagine ma non del tutto torno indietro solo di un passetto tornando indietro di un passo dall'immagine rumorosa si arriva a qualcosa prima che punta nella direzione magari non di questa immagine ma in una direzione che arriva dalle parole che arrivano da altre immagini ma nello stesso tempo non sto andando verso nessuna di essa in particolare ancora ho ancora una possibilità di rami aperti che mi porteranno ancora diciamo con probabilità molto alta verso qualsiasi di tutte quelle immagini originali che erano associate a quelle parole perché ho fatto solo un passetto indietro magari un paio a quel punto cosa succede? riaggiungo del rumore quindi tolgo un po' di rumore e lo riaggiungo sempre utilizzando diciamo come guida quelle parole che avevo usate quindi posso per esempio aver fatto un passaggio da qui a qui ma non immaginatelo con la stessa immagine immaginatelo appunto con un insieme di immagini non sto tornando a questa faccia sto tornando a un possibile mix di tutte queste foto e da qui riaggiungo il rumore un pochettino e torno qua davanti e cosa faccio? rifaccio la stessa procedura e continuo continuo andando indietro aggiungo un po' di rumore e lo tolgo aggiungo un po' di rumore e lo tolgo ed è in questo modo che vengono generate queste immagini e infatti questo sampling steps dice il numero di passi da considerare e che ovviamente per esempio più lo alzo più comincio a ottenere dei risultati più dettagliati ma è anche molto più impegnativo da calcolare in pratica tutti questi parametri che se utilizzate qualcosa come mid journey è un pacchetto pronto e non potete farci niente in stable diffusion open diffusion avete invece la possibilità di regolare tutti questi parametri e per esempio questo è proprio la scala di quanto devo forzare la ricerca delle parole spostandomi diciamo verso numeri alti o quanto ti lascio libero di andare in qualsiasi direzione spostandomi verso numeri bassi se io abbasso questo valore in pratica abbasso il senso delle parole e quindi lo lascio vagare più libero i termini vengono seguiti di meno ecco i risultati di averlo lasciato viaggiare libero e sono veramente dei risultati molto casuali dove gli elementi principali sono seguiti molto vagamente le parole non vengono più forzate particolarmente se invece faccio l'operazione opposta e lo porto su nel cercare di rispettare quello che c'è scritto nel prompt è più facile che ottenga delle immagini nelle quali i miei argomenti sono specificati meglio ecco un risultato con una forzatura maggiore del senso delle parole e in questo caso a me pare che per esempio abbiano portato a dei risultati in cui si vede chiaramente il senso del disegno per bambini per esempio oppure gli orsi sono un po' più definiti quindi il punto di partenza può essere come in questo caso un'immagine completamente vuota oppure come abbiamo visto quando gli chiediamo di andare a modificare qualcosa solo in una certa zona può essere anche che forniamo una parte del lavoro anche qui possiamo dire che è un collage no non è possibile dire che è un collage perché di nuovo il meccanismo sta semplicemente togliendo del rumore è davvero solo un filtro di denoising solo che è un filtro di denoising pilotato da delle informazioni di noise queste che sono state generate ad un certo punto prima che tutto questo diciamo accada sono state generate da queste coppie di parole e immagini però queste coppie di parole e immagini non ci sono più nell'archivio nella base dati sono presenti solo questi solo i rumori che sono la differenza tra un passo e l'altro di questa procedura che viene fatta all'inizio questa particolare procedura di aggiungere e salvare i vari rumori è pesante dal punto di vista computazionale e se ne occupano delle aziende e ovviamente anche la quantità di immagini che all'inizio decide anche la varietà diciamo dei risultati e anche in un certo senso la qualità ma fondamentalmente è come se fosse un potentissimo filtro di riduzione rumore quindi da un certo punto di vista è difficile pensare che il risultato possa essere ritenuto copribile da diritto d'autore perché si tratta di un filtro di denoising è assolutamente impossibile pensare di rimuovere delle immagini dall'archivio perché le immagini non ci sono nell'archivio c'è un grosso file che è quello del modello di machine learning è un grosso file nell'ordine dei gigabyte però è chiaro che non contiene 5 miliardi di immagini 3-4 miliardi di immagini perché 3-4 miliardi di immagini saremo in realtà l'archivio originale è nell'ordine dei 200-300 terabyte e non è possibile che io me lo installi sul computer questo generatore di immagini che avete visto all'opera non contiene assolutamente le immagini non le cerca su internet non ha bisogno di essere collegato a internet possiede solo questo grosso file è un file di dimensioni ragguardevoli ma non enormi è un paio di giga insomma contiene solo i dati del rumore che tra l'altro non sono salvati sotto forma di pixel ma sono definiti come una funzione è un meccanismo un po' simile a quando salviamo un jpeg che occupa molto poco posto perché i colori non sono rappresentati pixel per pixel ma vengono rappresentati come una funzione matematica che approssima il più possibile quel quadratino di colori di 16x16 pixel quindi e qui in modo simile anche le immagini sono state spezzettate e comunque dentro a questo archivione ci troviamo solo queste informazioni sul denoising in questo senso non è neanche possibile fargli disimparare delle immagini perché è come se fosse diventato un blocco unico le immagini originali c'erano nel momento della creazione di questo mega archivio mega archivio che tra l'altro ormai esiste ne parlerò in un secondo video ma stable diffusion contiene questo file questo file è su internet e quindi questo file esiste questo file è stato costruito in un modo molto dubbio anzi in un modo che non si è preoccupato minimamente della sicurezza e del diritto di farlo tuttavia è stato fatto per motivi di studio e chi si è occupato di creare questo archivio lo ha fatto non pensando che qualcuno avrebbe venduto dei prodotti basati su questo ma lo ha fatto cercando di ottenere questi risultati da un punto di vista di studio c'era bisogno di miliardi di immagini hanno pescato miliardi di immagini decisamente alla buona ma scrivendo più e più volte guardate che è per motivi di studio non c'è da farci dei prodotti commerciali sopra e questo è il problema che dicevo all'inizio e il motivo per il quale non mi piace parlare molto dell'argomento farò un secondo video con un po' di considerazioni non tecniche questo voleva essere solo la spiegazione di come funziona il meccanismo e perché non è possibile fargli disimparare delle immagini che ha imparato e perché non sta effettivamente facendo nessun tipo di collage di immagini esistenti non è una specie di google immagini con il mixer perché in nessun momento accede diciamo a internet lo sto appunto usando in locale il computer dove si trova sopra può anche non accedere a internet sono un paio di giga non si può immaginare che dentro un paio di giga ci siano miliardi di immagini neanche con l'algoritmo di compressione migliore del mondo non c'entra niente la ricerca di immagini su internet quelle immagini sono già lì dentro tra l'altro esistono diversi pacchetti di immagini al momento diciamo che la maggior parte dei generatori di immagini che stanno andando di moda si basano fondamentalmente sui soli dati di stable diffusion per cui diciamo che siamo ancora volendo in tempo a discutere di quel particolare archivio di immagini che è stato generato non è vero che sono diciamo migliaia e quindi ormai non ci si può più far niente principalmente si tratta dei dati di stable diffusion proprio perché la creazione di questo archivio iniziale è un qualcosa molto molto costoso da un punto di vista di lavoro umano e da un punto di vista di risorse in un secondo video parliamo un pochettino di queste cose io ho semplificato molto l'argomento che in realtà è particolarmente complesso se volete un'altra spiegazione semplice ma non difficilissima su questo canale scende molto in dettaglio ma in modo comunque discorsivo in questo video How AI Image Generators Work Stable Diffusion da lì Computer Film qui vi dà una spiegazione molto chiara con dei bei disegni anche fatti a mano appunto di come funzionano questi algoritmi in maniera più precisa di come posso avervela detta io però diciamo che io ho cercato di un po' semplificarvela e anche un po' dirvela in italiano questo video è in inglese in questo mio video non avete trovato molte opinioni ho cercato semplicemente di dirvi come le cose funzionano in maniera che almeno certi argomenti possano essere fuori dalla discussione nel senso che alcune cose proprio tecnicamente non hanno senso come appunto dire voglio essere tirato via dall'archivio oppure anche gli argomenti relativi al copyright io non sono un legale però è chiaramente molto difficile dire che ci sia una violazione del copyright nel momento in cui genero le immagini non è il sistema di generazione immagini che va violando il copyright di nessuno nel momento in cui genera le immagini si può discutere moltissimo di come sono stati creati gli archivi originali e soprattutto anche di con che criteri le aziende che vendono il prodotto di genero l'immagine si sono accordate con questi fornitori originali di immagini diciamo che questo argomento lo voglio sviscerare un attimo in un prossimo video intanto grazie di avermi seguito fin qui e alla prossima grazie a tutti